L'arrivo di tantissimi turisti anche in vista dell'apertura dell'aeroporto di Salerno Costa Damalfi, i cui voli decolleranno il prossimo luglio, potrebbe rappresentare un problema per quei territori a sud della provincia salernitana che non hanno una viabilità ottimale. Ma su questo aspetto a rassicurare tutti è il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Non sarà assolutamente un problema, noi ci stiamo lavorando all'accessibilità soprattutto alla zona sud, per il momento siamo in corso ormai di progettazione esecutiva della Versana e quindi già sarà una viabilità che migliorerà e decongestionerà la 18, c'è la questione della bretella, lavoreremo a tutta la viabilità di supporto all'aeroporto, ci sono 18 milioni che sono stati assegnati alla provincia, quindi dobbiamo fare presto però per essere pronti e non per ultimo il problema dei taxi, stiamo lavorando per essere pronti e per non deludere soprattutto chi arriverà attraverso il trasporto aereo nel nostro territorio.